Via la riorganizzazione del sistema ospedaliero della provincia di Sondrio dopo l'allentamento della pressione sul fronte Covid, ma il problema resta la difficoltà di reperire il personale. L'area ex Enel di Sondrio è pronta a cambiare volto. Nel 2023 è previsto l'avvio dei lavori, l'immobile è dismesso da anni, diventerà un polo in grado di erogare una serie di servizi utili ai cittadini. Il Mortirolo è la montagna mitica del Giro d'Italia, la più temuta. Martedì è stata affrontata dai campioni del pedale, e domani attende i partecipanti alla cronoscalata. Il progetto Radici di un'identità anima, il territorio coinvolgendo le bande di Albo Zaggia e la banda giovanile dell'Arco dell'Adda. Pronti i video dei due brani composti dal Baraccona Express. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV, edizione di Sondrio. Il sistema ospedaliero della provincia di Sondrio dà il via alla riorganizzazione dopo l'allentamento della pressione causata dall'emergenza Covid. Primo passo, la riapertura sondalo del reparto di pneumologia. Ma il problema rimane ancora la difficoltà di reperire personale, nonostante i bandi di concorso sempre aperti. La pressione causata dall'emergenza Covid-19 sul sistema ospedaliero della provincia di Sondrio si allenta e consente alla SST di procedere con la riorganizzazione dell'attività dell'ospedale di Sondalo, una fase delineata da tempo dalla direzione strategica che attendeva soltanto segnali confortanti sul fronte della pandemia per essere attuata. Dall'inizio della settimana i malati Covid-19, acuti e in via di guarigione, 30 in totale, sono stati riuniti su due piani del padiglione 1, il terzo e il quarto, e al secondo piano è stato riattivato il reparto di pneumologia. I medici pneumologi, infatti, sin dallo scoppio della pandemia erano stati destinati ai reparti Covid-19 per curare una patologia che colpisce in particolar modo proprio le vie respiratorie. Con loro gli infermieri, che dopo aver garantito supporto nella cura dei malati Covid, tornano alle loro mansioni. Il reparto, diretto da dottor Leonardo Iannacci, è in grado di accogliere fino a 12 pazienti per la diagnosi e la cura delle patologie polmonarie acute, di quelle interstiziali e dei tumori. Questi ultimi, durante la pandemia, venivano ricoverati e ricevevano le cure di cui necessitavano nel reparto di medicina. A partire da questa settimana, in pneumologia sono stati accolti i primi pazienti. La riorganizzazione dell'attività sull'intera rete ospedaliera provinciale proseguirà nelle prossime settimane per tornare progressivamente alla situazione antecedente lo scoppio della pandemia, tenendo conto delle carenze di personale alle quali si cerca di porre rimedio attraverso i numerosi concorsi che vengono banditi. L'ultimo, in ordine di tempo, è il bando sempre aperto per la ricerca di personale infermieristico da assegnare ai vari servizi ospedalieri e territoriali, definito a seguito del precedente concorso che non aveva avuto gli esiti auspicati. Su 253 iscritti, soltanto 90 si erano presentati per la prova scritta, 65 dei quali erano risultati idonei, tra cui 21 che già lavoravano alla SST, passati da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato. I rimanenti 44 erano stati tutti assegnati all'ospedale Morelli, ma soltanto 16 hanno accettato. L'area ex Enel di Sondrio è pronta a cambiare volto. Nel 2023 è previsto l'avvio dei lavori. L'immobile, dismesso da anni, diventerà un polo in grado di erogare una serie di servizi utili ai cittadini. Vediamo. Da area dismessa, rischio degrado, a luogo attrattivo di inclusione sociale. Di mezzo ci sono 15 milioni di euro. A giugno il Comune di Sondrio riceverà il primo conto di finanziamento dal Ministero per la rigenerazione dell'area ex Enel. Il progetto della Giunta prevede la realizzazione di quattro palazzine che integrano quelle a destinazione abitativa e commerciale previste dal piano dei privati. Ci saranno un asilo nido, le sedi delle associazioni, il centro autismo, alloggi di housing sociale, spazi gioco per i bambini e ancora un ambulatorio, sale e riunioni e una lavanderia. Tutto attorno, spazi verdi, viali alberati e un percorso ciclopedonale che si svilupperà lungo il canale per raggiungere il sentiero Valtellina, allargando ulteriormente la rete cittadina. Nel piano di rigenerazione urbana è previsto anche il collegamento dell'area ex Enel con la zona nord della ferrovia, un'esigenza molto sentita dai residenti. Attualmente si sta valutando se realizzare un sottopassaggio o un sovrapasso. Ciò che ci preme migliorare l'accessibilità al centro, valuteremo entrambe le opzioni, sottolinea l'assessore all'urbanistica, alla mobilità e all'ambiente Carlo Mazza. Il progetto nel suo complesso è molto innovativo e si inserisce in una visione della città che prevede la rigenerazione di diverse zone, attraverso progetti interamente finanziati. La differenza sostanziale rispetto alla prima proposta progettuale è che oggi, grazie al finanziamento ottenuto, ci sono i soldi per realizzarlo. I lavori inizieranno nel 2023 e termineranno nel 2026. È la montagna mitica del Giro d'Italia, la più temuta. Martedì è stata affrontata dai campioni del pedale. Domani attende i partecipanti alla cronoscalata con partenza da Amazzo di Valtellina. Il Mortirolo è pronto a regalare grandi emozioni. Affrontare le pendenze e mozzafiato della salita più temuta del Giro d'Italia è l'emozione che si potrà vivere domenica 29 maggio raggiungendo Mazzo di Valtellina, paese che accoglierà i partecipanti alla cronoscalata non competitiva organizzata da Rebel Bike. Il programma prevede alle 9 la chiusura delle iscrizioni, gratuite, alle 9.30 lo start per chi utilizzerà le bici muscolari. Alle 10 si inizierà la risalita con le e-bike, un evento che vedrà la partecipazione straordinaria di Ivan Gotti, vincitore di due giri d'Italia e detenitore del record di Scalata del Mortirolo. Il ritiro del pacco gara dalle 8 per i primi 200 iscritti, il ritrovo a Mazzo presso il negozio Rebel Bike, previsti premi speciali per il primo assoluto maschile e la donna più veloce e premi a estrazione per tutti i partecipanti. Sarà una giornata di sport e amicizia, un tributo a una salita leggendaria conosciuta in tutto il mondo. Fece la sua prima apparizione al Giro d'Italia il 3 giugno 1990. Quel giorno si scalava il versante di Edolo e il primo a transitare in cima fu il venezuelano Leonardo Sierra, che conquistò anche la tappa che prevedeva l'arrivo ad Aprica, località che martedì scorso è entrata nella storia, a 10 volte il traguardo della Corsa Rosa è stato collocato nel territorio aprichese. Il Mortirolo venne riproposto dagli organizzatori del Giro d'Italia, già l'anno successivo, stavolta da Mazzo, dal versante valteinese. Via è diventata una classica, 12,5 km al 10,5% di pendenza media con punte al 20%. Il 94 fu l'anno della definitiva consacrazione, con l'indimenticabile cavalcata trionfale di Marco Pantani. Era il 5 giugno, si correva la Merano Aprica con in programma Stelvio, Mortirolo e Santa Cristina. Il pirata, allora aveva solo 24 anni, attaccò, staccò in Durain, Bugno, Chiappucci e la Maglia Rosa Berzin. Livigno conferma di essere punto di riferimento mondiale per i ritiri sportivi in altura. In questi giorni ha fatto tappa Elia Viviani, campione olimpico di ciclismo. A 1800 metri di quota ha messo a fuoco i prossimi obiettivi stagionali. Campione olimpico, campione del mondo, campione pluri, campione europeo. Elia Viviani è tornato a Livigno anche quest'anno. Niente Giro d'Italia per te, ci spiegherai poi il perché e se c'è rammarico. E quindi che cosa stai preparando qui al passo d'era, tre palle, Livigno? Come sempre torniamo a Livigno volentieri, quindi cerchiamo di capire il programma gara e poi scappiamo su e programmiamo bene la seconda parte di stagione. Quindi sono stato qui già in due blocchi, dieci giorni prima del tour di Ungre in Ungheria e poi tornato qui altri 12 giorni. Ed ora scendo perché il giugno sarà intenso, ci sarà Bruxelles Classics il 5, poi ZLM Tour e poi Occitania, proprio in avvicinamento al campionato italiano che sembra avere un percorso in Puglia, non del tutto piatto, però insomma su e giù. Quindi possibilmente, nelle mie possibilità, nelle mie gambe. Quindi sto preparando un giugno importante. Dopo essere stato fuori dalla selezione del Giro, sappiamo benissimo cosa voleva dire tornare al team Ineo, se la squadra ha scelto di andare al 100% per Carapaz e la scelta sta pagando. Quindi sono scelte tecniche che vengono prese dal team. Ora mi sto concentrando proprio su quel giugno, poi per tornare qui a luglio e preparare gli ultimi mesi che speriamo nella vuelta. C'è un bellissimo europeo totalmente piatto a Monaco, in Germania, dove è un giorno cerchiato col bollino rosso. E quindi insomma, poi è anche uno dei giorni che di solito mi si addice perché 14-15 agosto ho già provato emozioni fortissime nelle Olimpiadi degli anni scorsi e l'europeo sarà il 14 agosto. Quindi cerchino rosso sull'europeo e poi speriamo di far parte del team della vuelta. Ti abbiamo preso a caldo quest'oggi, sei appena scesa dalla tua bicicletta. Ci racconti che giro hai fatto. Oggi era un giro lungo di sei ore, abbiamo rubato un'ora qui in valle e poi siamo scesi Bormio, abbiamo passato Bormio, siamo andati a Grosio e poi abbiamo girato a destra per una salita che avevamo fatto a volte solo 20 minuti di qualche lavoro, ma oggi abbiamo detto ok, è un giorno in cui dobbiamo solo stare in bici e abbiamo puntato il paesino che vedevamo là in fondo ed era Eita ed è stato un bellissimo giro. E quindi poi siamo tornati con le nostre sei ore. Hai pedalato in questi giorni anche, presumo forse, al fianco della tua compagna Elena Cecchini. Sì, Elena è stata qua un periodo più continuato, nel senso tre settimane continuate con una sua compagna che ha scoperto per la prima volta Livigno ed è stata contentissima quindi chissà che torneremo a vedere magari qualche top team femminile arrivare a Livigno proprio come magari quest'anno si vede con l'UAE o come è stato negli anni scorsi con la Quistep quindi diventa sempre una meta che attira i grandi campioni. Il progetto Radici di una identità ha raggiunto il cuore del territorio coinvolgendo le bande di Albosaggia e la banda giovanile dell'Arco dell'Adda. Il risultato sono i videoclip dei due brani composti per l'occasione dal Baraccone Express. Il Valzer Agricolo per la banda di Albosaggia e Cavalli e Castelli per la giovanile dell'Arco dell'Adda. Due brani del Baraccone Express diventati ora video che sono parte del patrimonio del progetto Radici di una identità. In un progetto che racconta l'identità di un territorio non poteva mancare la musica perché è un elemento essenziale del racconto. Lo abbiamo fatto tramite il Baraccone Express e tramite loro abbiamo coinvolto le bande del territorio. Il risultato è stato piacevole. Il coinvolgimento di tanti giovani è anche un risultato di condivisione che è importante nei nostri paesi. RAIS è il nome che abbiamo dato alla colonna sonora del progetto, cioè Radici in dialetto. Però RAIS in alcuni dialetti vuol dire bambino, vuol dire giovane. Ecco, questa comunanza di significato cambiando un accento ci ha fatto anche lungamente pensare. Ed è bello aver coinvolto in questa azione specifica che riguarda il linguaggio musicale, un linguaggio potentissimo che sa unire le generazioni, sa unire persone diverse, andare alle radici insieme ai RAIS, insieme ai nostri ragazzi, insieme ai nostri giovani. I ragazzi ci hanno proprio aiutato e ci hanno portato del valore aggiunto a questo progetto, grazie alla loro freschezza, al loro entusiasmo. Il progetto Radici, nelle loro voci e nelle loro corde musicali, ha trovato modo di vivificare in modo ancora più brillante e gioioso angoli di fusine, angoli di albosaggio, di caiolo e di berbenno. C'era proprio una festa di paese, finalmente appunto dopo un po' di chiusure e restrizioni da Covid è stata una festa emozionante per tutti. Io ho usato, correvo da tutte le parti con una macchina, avevo un drone che volava sulle teste e per quanto riguarda fusine abbiamo anche ambientato in alcuni angoli caratteristici. La nostra bellissima provincia è ricca di piccole chicche da scoprire, da riscoprire, da visitare e secondo me questa contaminazione di linguaggi fra cultura, musica e video può permettere al pubblico di conoscere anche possibili turisti. È stata più che altro un'esperienza unica perché i brani che abbiamo scritto per questa suite Raïs che abbiamo poi arrangiato col barracone, sono stati poi riarrangiati da Valentina Mazzoleni per le due bande. I due brani con le bande sono stati registrati dal vivo. È stata una bellissima esperienza che ci ha anche permesso di tirare avanti in questi anni duri di Covid. Uno spaccato di storia locale attraverso usi, modi di dire, proverbi, leggende, canzoni e qualche passo di danza. Il tutto nell'abito tipico di ognuno dei paesi di provenienza. Bema ha ospitato la tredicesima edizione della rassegna mandamentale dei costumi tradizionali con i 13 gruppi folcloristici della Bassa Valle che hanno celebrato il valore della tradizione. La proloco di Bema si è esibita in apertura e in chiusura di pomeriggio puntando su poesie e indovinelli in dialetto bemino, dando spazio alla musica dei beimatei. Ogni formazione folcloristica si è dedicata alla messa in scena di detti e proverbi, leggende, origine di cognomi e luoghi per presentare il proprio paese attraverso la cultura popolare. La rassegna mandamentale dei costumi tradizionali si è conclusa con la grande soddisfazione di tutti i presenti a partire dagli organizzatori della comunità montana e anche con una raccolta di fondi che verranno donati al gruppo della gioia di Talamona che aiuta anziani e disabili. Per ora è tutto, io vi ricordo che potete leggere tutte le nostre news in tempo reale sul sito teleunica.com, trovare le trasmissioni e il palinsesto su teleunica.tv e tanti contenuti speciali sui nostri canali social. Grazie per essere stati con noi, buona serata! Grazie! 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 Grazie!